bella giornata veramente cominciamo bene l'anno il primo gennaio del 2024 si è innamorato per fare un concetto quasi un quadro paese �vata e il Adesso mi sono chiamato Dimmi un po' se è in attraverso di te Come? Un'altra volta Guarda la boa Quella di sinistra Ok Questa è la nostra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo verso la seconda. Grazie a tutti. 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 Ciao Michele. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.